ciao ragazzi eccoci qui davide nico oggi sono in compagnia dei miei friends e aia facciamo abbiamo già fatto un raid ex che ho qui pronto per fare appunto il check shiny vai allora adesso faccio check shiny io ovviamente è Mewtwo che sappiamo bene come affrontarlo comunque vi metterò link per le guide di Mewtwo qua in descrizione facciamo il check shiny perché questo Mewtwo comunque può essere shiny e può avere palla ombra a palla ombra sfida bonus vado non è shiny questo Mewtwo ma palla ombra 2348 pl quindi non è molto forte e niente il 100 è 2380 tipo una cosa del genere non mi ricordo più ma comunque più alto di questo tu qualche shiny quindi niente shiny in questo primo raid ex di Mewtwo che è tornato con palla ombra e però vabbè lo catturiamo chiaramente hanno aumentato il rate di cattura prima era 2 per cento adesso 6 per cento ed hanno anche diminuito un po i pl di Mewtwo prima era sui 60 mila adesso 50 mila e niente vediamo di catturarlo e poi faremo anche un aggiornamento del video che avevo fatto prima di questo appunto che parlavo dei team rocket non si sapeva bene cosa sarebbe successo sono uscite alcune news su missioni su un altro evento del team rocket e niente vediamo di catturare il Mewtwo e poi parleremo del team rocket allora ragazzi eccoci qui apriamo il gioco perché appunto dobbiamo vedere un paio di cosettine il pokemon che ho trovato ultimamente come avete visto l'immagine di caricamento del gioco è cambiata ci sono questi pokemon ombra con alcuni membri del team rocket appunto e che dire vi faccio un resoconto di questo ultimo evento che è andato appunto evento mini evento nel senso che c'era un po più di spawn aumentato degli oddish appunto e si poteva trovare anche shiny si può ancora trovare shiny perché comunque è stato rilasciato a livello globale e cosa ho trovato io beh innanzitutto ho preso il Mewtwo che avete visto prima che ho fatto prima ho trovato ho preso questo Mewtwo con palla ombra con la baccananas non è molto forte ma comunque è un ottimo Mewtwo con palla ombra che potrò scambiare ho trovato questo spawn shiny a caso completamente selvatico prima mentre ero in macchina appunto e però l'ho già rinominato Jay perché devo scambiarlo a un mio amico lui mi darà un iphone shiny che a me manca c'è ne ho uno solo registrato devo fare l'evoluzione poi cosa ho trovato di interessante un Mewtwo 98 ieri qua in zona poi oddish shiny eccolo qui il primo cioè sto qua il secondo che ho trovato perché vanno in ordine di ritrovamento questo altro oddish shiny che è un 89 per cento è un 15 15 10 e un patrat shiny veramente inaspettato bellissimo quando l'ho trovato sono impazzito sono veramente contento di averlo trovato perché gli oddish erano comunque un pochino bustati erano più facili da trovare anche shiny patrat rimane la probabilità 1 su 450 più o meno e quindi sono veramente molto più contento dei patrat anche degli oddish però di più di questi oddish shiny ne ho solo due ne ho trovati solo due comunque mi ritengo abbastanza fortunato per questo e me ne farò scambiare gli altri che mancano a completare la linea evolutiva comunque detto tutto questo andiamo adesso da un'altra parte oltre al gioco perché semplicemente vi metto da parte lo screen da su lo sto cercando con internet ma vi metterò lo screen da parte comodo comodo di quello che ha trovato il nostro amico Krales che è questo ragazzo appunto che fa i tweet lui li mette sempre su twitter si occupa di pokemon go e cosa fa lui questo ragazzo ragazzo penso perché comunque non ci sono immagini sue non penso di averne mai viste comunque questo utente su twitter analizza il codice è praticamente il numero uno su queste cose e ci dà informazioni del suo codice su quelle che su quello che saranno i prossimi eventi intanto c'è un po buio perché è diventato tutto nuvoloso poi alzerò magari un po la luminosità del video e che dire vi metto qui da parte i vari screen perché ci sono looming in the shadows che credo siano una nuova ricerca speciale sul team rocket ma non sono sicuro comunque questo looming in the shadows dice che ci sono sei step infatti come vedete negli screen c'è uno su sei due su sei tre su sei ve li metto qui da parte fino a sei su sei appunto con questi compiti da svolgere sono descrizioni adesso non sto neanche qui a leggerle perché io non voglio spoiler più di tanto però effettivamente ci sono e stiamo solo parlando di questo evento oltre a questi sei step ci sono nuove ricerche che sono queste qui ve le metto sempre qui da parte dice di fare determinate cose sia con i team rocket sia con altre cose più semplici ad esempio vince un raid come gira tot pokestop gira pokestop durante il giorno e per più giorni di seguito e così via e c'è una cosa molto interessante che dice una di queste missioni che vabbè io non vorrei spoilerarmene perché mi da sempre fastidio però qui per forza di cose le ho viste le ho lette cattura un pokemon shadow cioè ombra leggendario catch a legendary shadow pokemon quindi ragazzi questo è il codice è già stato appunto spoilerato tra virgolette da krales leggendari pokemon e ombra non ci mettiamo la mano sul fuoco perché per per non so per qualcosa della niantic potrebbe cambiare non ho idea ma 99 per cento ci saranno i leggendari ombra nel gioco quindi davvero chissà cosa dovremmo aspettarsi da questo nuovo evento del team rocket perché probabilmente ci faranno su un evento grosso speriamo in bene io sono veramente fiducioso e ho davvero tanto hype per questo evento soprattutto per i leggendari ombra che davvero se arriveranno in pokemon go sarà una roba potente sicuramente una roba potente che interesserà molto e gaserà un po tutti quanti devo dire sicuramente quindi niente ragazzi questo video è finito un video molto semplice avevo fatto il raid di Mewtwo X prima con amici e adesso abbiamo parlato un po di questa di queste nuove info sul team rocket e su un prossimo evento possibile del team rocket quindi niente ditemi cosa ne pensate di questo Mewtwo se avete già ricevuto magari i biglietti X e se siete contenti come me siete in hype per questo nuovo evento che probabilmente ci sarà a breve del team rocket team go rocket e ditemi cosa ne pensate di dei leggendari ombra veramente devastanti secondo me ciao ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao